si è bloccato il video dall'altra parte però questo è il risultato grazie Fedora grazie si è bloccato leggermente il video chi è il prossimo? è Luca il prossimo pregame tranquillo dai no io ho fatto e questo è un po' signore con il piano perché non è ora poi lo puoi vedere solo su YouTube tranquilla la depressione calmo tranquillo non c'è niente noi non ci siamo non offendere molto mi piace ma hai fatto da te e te che puoi vedere se non è lui oh oi? 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 Qui si trucca, eh? Eh sì. Tira un po' più su il cellulare. Perché non tagli i capelli. Ma non è che sto a prendere i capelli, tranquillo, solo a te te li tagli. Mi sposto, mi sposto. E questo è Luca. Adesso piano piano li riprendo tutti. Mi manca cinza Veronica. E te non ti ho ripresa? Sì, mi ho ripreso. Ti ho ripreso? Sì, ok. È vero che si può riprendere. Allora sono le altre due. Vabbè, te sono riprese mentre lo stavamo. Buongiorno. Buongiorno. Adesso devo entrare nel vlog? No, anche sì, anche no. Ciao, ci siamo paura. Chi è che ci stanno scondendo qui? Musa, Musa, vatti vedere un po'. Saluta. Ciao a tutti. Buonasera. Io sono Musa. Ok. Oggi, questa giornata da me, sono contento. Eh sì? Sì, oggi c'è lo spettacolo. Sì, fa un spettacolo molto bello. Sì. Ci sono stranieri, ci sono italiani. Sì. Ciao a tutti. Voleva sorvare. Lui fa le canzoni. Lui fa delle canzoni. Dove sta il figlio su YouTube. Commentate, seguite il pubblico. Passiamolo, non ti fa nessuno. Ascuna. E poi piano piano vi riprendo tutti. Allora, devo fare un po' di pubblicità? Allora, lui è uno del gruppo stretto, ovviamente. Siamo cinque in tutto. Lui è uno dei tanti, fa video su YouTube, seguitelo ovviamente. Ma ha fatto un video che sono conciato così, mi prenderanno molto sul serio. Guarda pure io quanto sto sul serio, è la recita, è lo spettacolo, vai, fatti pubblicità. Allora, io ho un canale, Captain A94, faccio video sulla Marvel, su Ritorno al Futuro, Terminator, eccetera, eccetera, su quello che mi piace. Mi piace. Bravo. L'addizione. L'addizione, su, vai. Ehi, niente, se volete farci un salto. Andateci a fare un salto, il link ve lo lascio qui in descrizione. Grazie che ho acceso la luce. Poi faccio pubblicità anche a te. Ok, grazie. E ride. Dov'è la Jennifer? Che lei ride proprio sonoramente. Eh? Vabbè, andate da seguire, ovviamente iscrivetevi al suo canale, mettete tanto mi piace a ogni il suo video. Evviva. Comunque a lui lo vedete voi stesso adesso sul mio canale. Sì. Come anche a lei. Eh, ma vabbè. Vabbè, ovviamente. Lui non lo vedrete più tanto spesso sul mio canale. Aspettate che si è truccata una personcina. È stacco per il copyright. C'è anche Jennifer. È stata truccata anche lei. Facciamo vedere tutto quanto il trucco. Aspetta, fai vedere il braccio, fai vedere il braccio, fai vedere il braccio. Ti è tutta Lene. Allora, perché? Aspetta anche Lene. Aspetta, Lene, un attimo. Qui c'è anche Laura. Com'è, no? Sì, dai. Tranquilla. La cosa è divertirsi. Divertirsi. Tutti i cosi che devi fare è divertirsi. Non te la non metto quando ti fai le foto? Perché lei è fotomodella. Ti devi divertire. No. E se vai che fotografo mi dispiace, ti devi divertire quando fai le foto. Ti devi divertire. C'è che ti divertisci? Ma se tu divertisci, ti divertisci anche, cazzo. Beh, qui c'è altri. C'è Pestus. Federico. Ciao. Lei è stata truccata, si è messa anche la maglietta. Ma c'è il nemmeno a steva. Qui c'è Pieroniso, vabbè, per me l'ho già vista non so quante volte. Lui che sta fumando. Ora si mette questa. Vai, vai, dico. Sono disperata, non mi vai internet. Tanto da poco li dobbiamo spegnere i telefoni, quindi. Ciao. E io ho questi piccoli capelli che rimarranno sempre così. Ciao. E anche lui è stato bucchificato. Non ci voleva far truccare. Struccalo. Non mi diri niente. E per te la forma, scusa, posso? E non copiare i copi di merda. Vattene copriti in merda. Vattene copriti in merda. Scena dei crimini in umino. Sai quando il rap vi uccido, non mi uccido più. Ma mi fai contento soltanto se ti chiudi. Studi e l'ingoi con le un butto, chidi barbetullo. Sai che mi fotte del pubblico. Sì, si fa subito. Bravo. Si, si fa subito. Sì, si fa subito. Sì, si fa subito. Moio da rendo da suddito. Voglio i soldi di un amico. Hai visto quanto parla veloce? Eh, va veloce, sì. E' bravo a fare freestyle. Puntato. Ho visto un video sul freestyle. Eh sì, prima o poi lo prendo. Senza musica, vai. Stavate ballando così bene. Puoi entrare nel vlog, Audrey. Vai, su. In pratica ci stiamo divertendo stasera. Stiamo praticamente sprecando energie ora per dopo. Iniziamo a sprecarle ora. Però va bene. Non sta a fare. No, davvero. No, aspettate. No, è troppo complicato, Cinzia. È troppo... Scusa. Cinzia, vai a rifarlo. Ha risposto. Te l'ho detto che... Te l'ho detto che... Scusa, mi ha fatto sembra che fosse una foto. Quanto sono dischiettoso. Sono dischiettoso. Ero anche in posa. La bimbo... Anche lei era... Vabbè, l'ho già detto che era una fotomodella. Non so quale vi riuscirà prima. Comunque io ho fatto anche i capelli a lei. Sono quella dei capelli crespi dell'altra volta. Ecco. Però non so quale uscirà prima. Se è il vlog, i due vlog o tre. Perché praticamente verranno divisi in due. Io vedrò te due. Ah, siete tre. Scusa. Scusa.